Buongiorno a tutti amici di Pillole, questo weekend siamo in Ticino No, in realtà questo non è il Ticino, aspettate un secondo Ecco sì, ora siamo veramente in Ticino Ragazzi questo weekend in realtà siamo qui perché dobbiamo festeggiare il compleanno di Marco Benvenuti al mio compleanno Stava crescendo la barba, finalmente divento grande Come molti di voi sapete purtroppo Marco sta vivendo una situazione particolare Guardate in che stato mi sono ridotto Adesso sicuramente vi parlerà meglio di questa cosa perché bisogna approfondire la sua malattia in maniera ironica però Guarda, mi ha scelto un pelo biondo, ma ci fai diventare bianco La mia malattia è l'infoma di Hodgkin che è una malattia del sangue È un tumore che colpisce il sistema linfatico Mi hanno salvato in calcio d'angolo, in corner Perché appunto era arrivato al quarto stadio e finale, ultimo stadio di questa malattia E invece per fortuna abbiamo preso in tempo e sta reagendo molto bene Ha reagito benissimo alle cure per fortuna È regresso sin da subito dal primo ciclo, sono già scomparsi i vari sintomi che avevo E la domanda che ci facciamo tutti è Ma i pelli sul pisello? Cadono, cadono Ah, cadono, sì Cadono pure quelli Però è il naso pure, non c'è più pelli Il suo sogno è quello di fare un viaggio Mi manca un po' il mare, diciamo Un anno e mezzo che non metto un piede nell'altro Che cosa abbiamo fatto? Per questo abbiamo creato una specie di campagna online per fargli un regalo Abbiamo raccolto circa 3.500, no, di più 3.700 Dobbiamo arrivare a 4.000 euro perché ovviamente noi ancora non gli abbiamo fatto il regalo Beh, io adesso ho una fame pazzesca Tu hai fame? Sì, da morire Andiamo Proprio perché ha questo problema di capelli Abbiamo pensato, intelligenti che siamo, la soluzione Ciao cari Ma vedi che non è brutto Alcolino, ti abbiamo fatto un regalino Che stupenda Bene, mi è piaciuta Una tagliata, sì, esatto, per formaggi e salumi No, aspettate, ma dobbiamo fare che ognuno paga il suo o facciamo la romana? No, perché se no mi regola un attimo Purtroppo è iniziato il diluvio universale Quest'anno sta facendo un bel novembre Quanti siete a scommettere? 10, tu scommetti 10 Allora, stiamo scommettando 10 franchi Che Gianfranco se ne sta un minuto Aspen 50 franchi Lo paga nel fratto Bene ragazzi, finalmente splende il sole qui in Ticino E allora che cosa abbiamo fatto per continuare la festa del compleanno di Marco Abbiamo deciso di noleggiare un barchino Speriamo di non affondare Andiamo al massimo Ci mettiamo un mese a fare 20 metri con questo barchino Però dai, è sempre comunque una bella esperienza No, è bella, è bella, è bella cagà Ma no, guarda il culone là Capirà, vai, vada Vago io la barca per tutti, due ore, due ore e anche questo weekend è finito rimettiti in sasto e torno in gran forma dovevo girare il cappello tipo il film di Silvestre Stallone con il che guida il camion ragazzi alla prossima ciao a tutti Marco grazie per questo weekend ne hai fatto spenetrare i Schindeprand 300 300 compleanno di Marco Stripo l'azaziz auguri ma grazie a tutto grazie a tutti